rispetto sicuramente alla partita con il Brescia che aveva un tema, uno spartito ben preciso sappiamo di andare ad affrontare una squadra diversa, ma diversa perché una squadra che conoscete anche voi abbastanza bene nonostante abbia cambiato sia l'allenatore e sia la maggior parte dei giocatori, una squadra che ha mantenuto la propria fisionomia, quindi una squadra arcigna, una squadra fisica, una squadra che difende con tanti uomini ed è molto abile nelle ripartenze con giocatori davanti abili, vedi Mbakogo ad attaccare la profondità, quindi dovremmo fare una partita intelligente perché dovremmo attaccare, dovremmo cercare di fare la partita ma con intelligenza perché non dovremmo prestare il fianco a quelle che sono le loro ripartenze, quindi dovremmo lavorare bene in questo senso, tutti si devono sentire in questo momento sulla corda perché avendo recuperato, comunque avendo a disposizione nei vari reparti più alternative tutti devono essere in grado di potersi giocare le proprie chance, le proprie opportunità perché questa concorrenza deve essere quella che ci deve far tenere la motivazione, l'intensità, la voglia di primeggiare anche vincendo la concorrenza con il compagno per cercare di andare a mettere anche questo dettaglio in un frosinone che giustamente ha dei giocatori che possono, interscambiandosi, non abbassare il livello della squadra. Io credo che per molti dei miei giocatori sia comunque una gara dal fascino particolare perché al di là delle rivincite che a me non mi piacciono né come parole né come tipo di atteggiamenti perché ogni partita ha una storia a sé, ogni campionato è diverso dall'altro, però credo che abbiano lasciato un pezzo di anima sul campo l'anno scorso durante quel playoff e quindi credo che sotto l'aspetto della motivazione personale tutti debbano avere un grandissimo senso di responsabilità proprio per cercare di andarselo a riprendere in una partita che ci vede comunque giocare di nuovo per un qualcosa di importante.